Il suo arrivo è stato la ciliegina sulla torta nel progetto di crescita della scuola basketarezzo, l'ingaggio di Marco Evangelisti come nuovo coach del settore giovanile amaranto. Evangelisti viene da tanti campionati da giocatori in Serie A, di cui gli ultimi cinque trascorsi ad Agrigento dove ha chiuso la sua esperienza nella stagione appena conclusa, icona della pallacanestro retina e valdernese per le tante stagioni vissute da protagonista ad alto livello, Marco è fratello di Andrea che è stato uno dei primi giocatori della scuola basketarezzo in Sicilia aveva abbinato la carriera di giocatore con quella di allenatore e i risultati non sono tardati ad arrivare con la conquista della finale regionale under 13 da capo allenatore. Ora la nuova avventura nella scuola basketarezzo. Ho visto come lavoravano qua nel settore giovanile ad Arezzo e già lì mi sono fatto un'idea che è il modo giusto di lavorare ed è un posto in cui volevo lavorare anch'io per intrapendere questa nuova avventura da allenatore, mi sento pronto a mettere tutto quello che ho imparato negli anni da giocatore a disposizione di ragazzi giovani che abbiano voglia di poter provare a diventare giocatori e non si può non scegliere un posto in cui c'è Umberto Pezzosi che è a capo di questo progetto ed è uno dei migliori d'Italia, quindi sicuramente qua si fa le cose sul serio e sicuramente io metterò tutto quello che ho imparato negli anni a disposizione dei ragazzi. Per struttura e per organizzazione si può fare un lavoro importante ma che superi anche ogni aspettativa, sicuramente va fatto un lavoro con una programmazione ben definita, bisogna alzare sempre di più la qualità del lavoro e sono convinto che c'è tutti i presupposti per fare bene, dalle strutture agli allenatori e ai giocatori, quindi credo che ci sono presupposti per fare molto bene sia da un punto di vista giovanile che di prima squadra.